Gli esperti assicurano che si tratta del testo mariano più antico del Nuovo Testamento. Si trova nel capitolo quarto della lettera ai Galati, quando venne la pienezza del tempo Dio mandò il suo figlio nato da donna. È un passo che esprime pur nella sua sobrietà una suggestione incomparabile, non solo perché ci parla di stagioni ormai mature per la redenzione, ma anche perché con quel nato da donna ci fa capire due cose molto importanti, il radicamento dell'Eterno sul ceppo dell'umanità e il radicamento di Maria nel progetto salvifico di Dio. Ciò che però personalmente mi colpisce di più in questa frase non è tanto l'esplicita affermazione della maternità divina di Maria, quanto il fatto che è la fin dal suo timido ingresso iniziale sul vasto proscenio biblico compare accanto a un missionario. Sì, perché Gesù Cristo è presentato in questo testo come il grande inviato da Dio. Il verbo mandò infatti è il termine tipico per indicare la missione, qualifica il figlio in modo chiarissimo come l'apostolo del padre. E allora non vi sembra splendido che Maria, per affacciarsi sulla veranda della storia della salvezza, abbia scelto di esibirsi in pubblico per la prima volta strettamente associata al grande missionario, quasi per significare che il tratto fondamentale della sua figura materna è quello della missionarietà. Certo, nel Vangelo si trovano tanti passi che manifestano più concretamente la funzione missionaria di Maria. Basterebbe pensare alla visita presso la cugina Elisabetta. Sembra quasi che la Vergine si muova sotto la spinta dello stesso verbo che ha sollecitato l'Angelo Gabriele a portare a Nazareth il nieto annunzio. fu mandato. Missus est Angelus Gabriele a Deo. Fu mandato. Troppo forte l'ulto di quel verbo, non essendosi esaurito con la discesa dell'Angelo sulla terra, ha scaricato il rimanente dinamismo su Maria che si è messo in viaggio verso le alture di Giudea. Fu mandata anche lei, insomma. All'origine della sua trasferta c'è ancora una volta il tipico verbo missionario. Lei ha obbedito a quell'impulso e portando Cristo nel grembo è divenuta il primo stensorio di lui. È inaugurato le processioni del Corpus Domini ed è andata a portare annunci di liberazione ai parenti lontani. A questo e ad altri passi si potrebbe pensare ogni volta che si parla di Maria come messaggera della buona novella. A me sembra però che, volendo scorgere la dimensione missionaria di lei, non ci sia episodio biblico che possa pareggiare la premiante forza teologica di quel suo esordio accanto a Cristo, così come viene delineato nella lettera ai Galati. Santa Maria, donna missionaria, concedi alla tua chiesa il gaudio di riscoprire nascoste, tra le zolle del verbo mandare, le radici della sua primordiale vocazione. Aiutala a misurarsi con Cristo e con nessun altro, come te, che apparendo agli albori della rivelazione neotestamentaria accanto a lui, il grande missionario di Dio, lo scegliesti come unico metro della tua vita. Quando essa si attarda all'interno delle sue tende, dove non giunge il grido dei poveri, dalle il coraggio di uscire dagli accampamenti. Quando viene tentata di pietrificare la mobilità del suo domicilio, rimuovila dalle sue apparenti sicurezze. Quando si adagia sulle posizioni raggiunte, scuotila dalla sua vita sedentaria. Mandata da Dio per la salvezza del mondo, la chiesa è fatta per camminare, non per sistemarsi. Nomade come te, mettile nel cuore una grande passione per l'uomo. Vergine gestante come te, additale la geografia della sofferenza. Madre itinerante come te, riempila di tenerezza verso tutti i bisognosi e fa che di nient'altro sia preoccupata che di presentare Gesù Cristo come facesti tu con i pastori, con Simeone, con i magi d'Oriente, e con mille altri anonimi personaggi che attendevano la redenzione. Santa Maria, donna missionaria, noi ti imploriamo per tutti coloro che, avendo avvertito più degli altri il fascino struggente di quell'icona che ti raffigura accanto a Cristo l'inviato speciale del Padre, hanno lasciato gli affetti più cari per annunciare il Vangelo in terre lontane. Sostienili nella fatica, ristora la loro stanchezza, proteggili da ogni pericolo. Dona i gesti con cui si curvano sulle pieghe dei poveri i tratti della tua virginale tenerezza. Metti sulle loro labbra parole di pace, fa che la speranza con cui promuovono la giustizia terrena non prevarichi sugli attese sovrumane di cieli nuovi e terre nuove. Riempi la loro solitudine, attenua nella loro anima i morsi della nostalgia. Quando hanno voglia di piangere, offri al loro capo la tua spalla di madre. Rendi li testimoni della gioia ogni volta che ritornano tra noi profumati di trincea, fa che possiamo attingere tutti al loro entusiasmo. Confrontandoci con loro, ci appaia sempre più lenta la nostra azione pastorale, più povera la nostra generosità, più assurda la nostra opulenza. E recuperando su tanti colpevoli ritardi, sappiamo finalmente correre ai ripari. Santa Maria, donna missionaria, tonifica la nostra vita cristiana con quell'ardore che spinse te, portatrice di luce sulle strade della Palestina, anfora dello spirito, riversa il suo crisma su di noi, perché ci metta nel cuore la nostalgia degli estremi confini della terra. E anche se la vita ci lega ai meridiani e paralleli dove siamo nati, fa che ci sentiamo ugualmente sul collo il fiato della moltitudini che ancora non conoscono Gesù. Spalancaci gli occhi perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo, non impedire che il clamore dei poveri ci tolga la quiete. Tu che nella casa di Elisabetta pronunciasti il più bel canto della teologia della liberazione, ispiraci l'audacia dei profeti, fa che sulle nostre labbra le parole di speranza non suoni no menzogniere. Aiutaci a pagare con letizia il prezzo della nostra fedeltà al Signore e liberaci dalla rassegnazione.